Alternative naturali all'omeprazzolo, e con E6. Anche se l'omeprazzolo è un farmaco molto adatto per fermare i bruciori di stomaco, ci sono alternative naturali che ci danno gli stessi benefici senza gli effetti collaterali. Forse non tutti sanno che esistono alternative naturali all'omeprazzolo. L'omeprazzolo è un farmaco usato per trattare problemi di stomaco associati all'eccesso di acidità, come la gastrite o l'ulcera peptica. Questo farmaco si incarica di lasciare inattive le cellule parietali dello stomaco, che secernono acido attraverso una struttura chiamata pompa protonica. Di conseguenza, la produzione di acido gastrico si riduce del 95%. Antiacidi e omeprazzolo Gli antiacidi neutralizzano l'acido cloridrico dello stomaco, provocando un effetto immediato di fronte al bruciore di stomaco. D'altra parte, l'omeprazzolo comincia ad avere effetto a partire dal quarto giorno, per cui il suo utilizzo è da considerarsi come un trattamento a lungo e medio termine. Inoltre, mentre gli antiacidi sono acquistabili liberamente e si usano in modo sporadico, l'omeprazzolo deve essere prescritto e supervisionato da un medico. Gli effetti indesiderati dell'omeprazzolo Recenti studi hanno collegato l'uso prolungato di questo farmaco e di altri inibitori della pompa protonica, P, alle seguenti condizioni, Malattia renale cronica Aumento del rischio di fratture per osteoporosi Incremento del rischio di demenza Aumento del rischio di malattie cardiache alternative naturali All'omeprazzolo Il consumo di questi rimedi, insieme ad una dieta sana, ci può aiutare dire addio all'omeprazzolo e a tenere a bada i disturbi dello stomaco causati da eccesso di acidità. Bicarbonato di sodio Essendo un antiacido naturale, il bicarbonato di sodio è tra le alternative naturali all'omeprazzolo. Tuttavia il suo uso è controindicato nelle persone che soffrono di ipertensione a causa dell'alto contenuto di sodio tramite la sua assunzione. Ingredienti 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 10 gr 1 bicchiere di acqua 200 ml Cosa dovete fare? Mettete un cucchiaio di sodio in un bicchiere d'acqua Bevete immediatamente, prima che appaiano le bolle Prendetelo una volta al giorno, dopo i pasti Aceto di mele Per evitare additivi chimici È importante assumere aceto di mele biologico Tra le alternative naturali all'omeprazzolo Si tratta di un buon alleato per il controllo immediato del disagio da bruciore di stomaco Ingredienti 1 cucchiaio di aceto di mele 10 ml 1 bicchiere d'acqua 200 ml Cosa dovete fare? Mettete un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d'acqua Bevete una volta al giorno prima del pasto principale succo di aloe vera Anche se sul mercato è disponibile l'aloe vera imbottigliata Questa di solito contiene zuccheri aggiunti Motivo per cui diventa acida quando entra nell'organismo Pertanto è opportuno fare da soli il nostro succo di aloe Ingredienti 2 foglie di aloe vera 1-2 tazza di acqua purificata 100 ml Cosa dovete fare? Tagliate le foglie a metà, trasversalmente E rimuovete la polpa con un cucchiaio Mettete la polpa e l'acqua in un frullatore Frullate fino ad ottenere una miscela liquida Modalità di consumo Prendete un cucchiaio di succo di aloe al giorno al mattino Continuate il trattamento per almeno un mese Miscela di yogurt greco e coreandolo Essendo un prodotto lattiero caseario Lo yogurt fornisce glutamina Che è tra le migliori alternative naturali all'omeprazzolo Ingredienti 5 foglie di coreandolo fresco 1 cucchiaio di yogurt greco magro 20 gr 3-4 di bicchiere di acqua purificata 150 ml Cosa dovete fare? Mescolate tutti gli ingredienti Fino a quando non saranno tutti incorporati Modalità di consumo Assumete questa miscela ogni giorno dopo i pasti Amla Lamla è un frutto dell'India che Per la sua ricchezza di sostanze nutritive È stato ampiamente utilizzato nella medicina ayurvedica Modalità di consumo Mangiatene un frutto tutti i giorni Al mattino a causa del suo sapore aspro Si consiglia di lasciarlo prima in ammollo In acqua salata Può anche essere consumato in polvere Reperibile sul mercato Assicurandosi che il prodotto acquistato sia di buona qualità Succo di anguria Anche l'anguria rappresenta una delle migliori alternative naturali all'omeprazzolo E può essere consumata in cocktail e dessert Berne il succo È un ottimo modo per concentrare le sue proprietà Modalità di consumo Bevete un bicchiere 200 ml Di succo di anguria Tre volte al giorno Continuate questa routine per un mese Abitudini sane Suggerimenti Parallelamente a qualsiasi trattamento È necessario mantenere un'alimentazione adeguata Povera di grassi e ricca di frutta e verdura Evitate gli alimenti con zuccheri trasformati In quanto questi possono sbilanciare batteri dello stomaco E far tornare i sintomi del bruciore di stomaco Masticate il cibo in modo corretto Per facilitare la digestione E prevenire il reflusso invece di tre pasti abbondanti Fate cinque piccoli pasti al giorno